La lettura alla Camera. Sulla manovra il confronto tra maggioranza e opposizione sta per spostarsi in Parlamento. E proprio l'aula della Camera nel pomeriggio voterà la fiducia al decreto sicurezza. I servizi di Alessandro Gamberi e Andrea Bovio. Non ci sarà nessun nuovo documento sulla manovra da inviare all'Europa. Matteo Salvini mette in chiaro le cose, sta al Parlamento a provarla e sarebbe ingeneroso che l'Europa la bocciasse prima ancora del voto delle Camere. Il dialogo con Bruxelles, comunque, osservano dalla maggioranza, c'è e va avanti. Qui non è una questione di decimali, è una questione di quello che vogliamo fare. Noi in manovra prevediamo fondi per il dissesto idrogeologico, per combatterlo. Perché non ci può essere investimento se non risolviamo il problema che mancano strade, che crollano. Quindi vogliamo fare queste cose per il bene dei cittadini. Sul frontelavoro Di Maio fa il punto. Sulla vertenza per Nigotti abbiamo sospeso la procedura di chiusura fino al 31 dicembre. A tutti i dipendenti sarà garantita la cassa integrazione per respirare. Poi, sottolinea, occorrerà rilanciare l'azienda. Non accenna a casa.